Abbiamo parlato della risurrezione di Gesù, della gioia dei discepoli, degli apostoli, ma perché anche noi dobbiamo essere gioiosi? Perché la Pasqua, la risurrezione di Cristo, ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. L'esultanza pasquale della Chiesa in questi giorni è causata proprio dalla risurrezione di Gesù, ma anche motivata dalla nostra risurrezione con Lui avvenuto nel sacramento pasquale per eccellenza, nel Santo Battesimo. Di qui la costante allusione nella liturgia pasquale al Battesimo. In questo tempo liturgico cercheremo di penetrare il mistero della nostra grazia battesimale. La nostra redenzione dice anzitutto liberazione dal peccato. La buona notizia, la speranza di un Redentore che sarebbe venuto a prendere su di sé il peso dei peccati e la responsabilità della riparazione viveva almeno allo stato oscuro presso gli ebrei nel popolo della rivelazione. Poi questa speranza venne facendosi sempre più chiara e più viva. Dio stesso ne aveva gettato il germe con la promessa di un Redentore fatto ai protoparenti nel Paradiso. Per questo all'angelo annuncia la nascita di Gesù con le parole Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi sin dall'inizio della nascita di Gesù noi sapevamo che cosa veniva a compiere su questa terra a liberarci dal peccato. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo grida Giovanni Evangelista. Gesù come parte essenziale della sua missione di Salvatore disegna costantemente la liberazione dal peccato mediante la sua morte espiatrice. Il figlio dell'uomo è venuto a dare la sua vita in riscatto per molti. Certo noi rimaniamo perplessi come Gesù che aveva tutte le possibilità non si è difeso davanti alle accuse del popolo, dei sacerdoti del tempo, della incapacità di giudicare di Pilato. Non si è difeso e poteva farlo. Ma perché? Perché lui è venuto per riscatto di molti per liberarci dalla scavitù del peccato. E agli apostoli Gesù dirà Andate in tutti i mondi, predicate la mia parola, il mio Vangelo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Ecco l'azione grandiosa iniziata da Gesù viene tramandata agli apostoli e quindi ai sacerdoti di rimettere i peccati. Questa è la lieta novella della Pentecoste annunziata dagli apostoli nella piazza di Gerusalemme. Il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato. Egli ci ha amato e ci lavò dai nostri peccati col suo sangue. Questa è fino ad oggi e per sempre la buona novella della Chiesa al mondo bisognoso di redenzione. Essa la annunzia dai suoi pulpiti, dai suoi altari, dal fonte battesimale, dal confessionale, nelle sue preghiere e nei suoi canti, dalle immagini della croce fra le mani dei morenti e sulle tombe dei morti. In Cristo noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, la rimissione dei peccati. Se noi, per chiudere brevemente, se noi vogliamo capire perché Padre Pio si è esposta a stare chiuso nel confessionale ore, 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 da 16 a 18 ore al giorno, terribile, quando usciva dal confessionale non si leggeva in piedi. Perché? Perché volevamo essere fedele a comando del Signore di assolvere i peccati degli uomini, ridare la pace, la serenità, l'amore di Cristo sofferente e portatore di pace.